Modello A1-840, è un tablet da 8 pollici con display full HD e IPS. Monta un processore quad core, 2GB di RAM e memoria da 16GB espandibili tramite microSD. Ovviamente doppia fotocamera, anteriore e posteriore. Come connessioni è completo di porta microUSB e microHDMI per poterlo collegare a TV monitor esterni o proiettori e ha una modalità per poter sbloccare lo schermo senza combinazioni che si chiama Azure Touch Wake Up. Semplicemente avvicinando le dita allo schermo si sblocca ed è una modalità che si può impostare direttamente dalle impostazioni quindi si può impostare in modo da richiamare subito qualsiasi applicazione. Come prezzo di partenza si parte dai 199 euro. Grazie a tutti.